5 trucchi segreti per investitori in cerca di rendite alte e sicure nel mercato immobiliare in Svizzera. Lo sapevate che la Svizzera può garantire alcune fra le migliori rendite immobiliari al mondo avendo una massima sicurezza? A che cosa bisogna fare attenzione per investire con successo nel mercato immobiliare in Svizzera? Cosa dovete conoscere prima di acquistare? Quali sono i passi da compiere per guadagnare investendo dall'estero? Come evitare i rischi e riconoscere gli investimenti sicuri? Ora lo scoprirete in questo video. Salve a tutti da Enzo Caputo di SwissBankingLawyers.com Se volete investire in maniera proficua ed avere un ritorno economico certo, dovete sempre escludere gli immobili messi in vendita pubblicamente. Infatti, se un immobile è già sul mercato, state solo perdendo tempo e rischiate di perdere molti soldi. Nel caso di immobili offerti su internet non si può mai sapere con chi si ha a che fare. Con gli annunci su internet molto spesso è impossibile anche solo determinare se il mediatore possiede un mandato esclusivo o meno. Inoltre, esiste la possibilità che l'immobile in vendita sia già stato promesso a qualcuno da una terza parte o che il proprietario non abbia alcuna intenzione di vendere. In alcuni casi, infatti, l'annuncio ha il solo scopo di verificare che guadagno si potrebbe realizzare tramite la vendita di quel bene, senza nessuna intenzione di venderlo. In altri casi, molto frequenti, gli immobili di prestigio sono usati come esca per grossi investitori. In modo da creare un legame e invogliarli a compiere operazioni finanziarie diverse o addirittura fraudolenti, gli esperti definiscono questo fenomeno con il termine inglese phishing expedition. Di norma, il venditore fornisce una perizia dell'immobile realizzata da uno studio riconosciuto che deve essere di recente data e non deve avere più di un anno. I periti certificati sono tutti noti nell'ambiente e sono pochissimi. Se scegliete quello sbagliato, rischiate che l'investimento non vada a buon fine. Durante i miei 30 anni di carriera ho visto tantissimi immobili di valore bruciati una volta messi sul mercato. Si tratta di quelle proprietà messe in vendita su internet, che però impiegano anni prima di vedere arrivare un compratore reale. Per essere certi di non perdere il vostro tempo e la vostra credibilità, fatevi sempre mostrare dal mediatore il mandato esclusivo in forma scritta per portare avanti la trattativa di vendita. Ed ora ecco il mio primo importante suggerimento, concentratevi solo su proprietà fuori mercato. Mi riferisco a quelli immobili per cui non esiste alcuna offerta pubblica, ma che sono trattati solo privatamente. Rivolgetevi ad uno studio legale esperto come il nostro Caputon Partners, o a una banca privata, o a consulenti finanziari. Noi offriamo ai nostri assistiti la possibilità di accedere agli esclusivi Club Deals. Club Deals sono opportunità esclusive d'affari che le banche di solito propongono solo ai loro clienti più importanti. Secondo consiglio, se volete avere successo nei vostri investimenti, concentratevi sugli edifici commerciali, fabbricati industriali, alberghi, logistica e negozi. Fate attenzione perché a causa delle registrazioni previste dalla legge Kohler Friedrich, gli stranieri non in possesso di residenza in Svizzera non possono acquistare immobili funzione abitativa. Purtroppo ci sono ancora studi legali che cercano di aggirare la legge con contratti complessi che nascondono la vera identità del proprietario straniero. Ma ormai questi stratagemmi non funzionano più e nella peggiore delle ipotesi si rischia anche la prigione. Terzo consiglio, nel canton di Zurigo, gli immobili residenziali, ossia le abitazioni, generano una rendita lorda che di rado arriva al 4%. Quindi non è un dramma se in quanto stranieri senza residenza non potete investire in questo tipo di prodotti. Noi invece proponiamo solo edifici commerciali fuori mercato che generano stabilmente utili tra il 5% e il 7%. Inoltre il rischio finanziario è notevolmente inferiore. Gli edifici commerciali infatti prevedono di norma affitti pluriennali ad aziende serie con buona solvibilità. Le abitazioni private invece hanno costi di gestione elevati ed affitti variabili. Va sempre tenuto presente che affittare ad un'impresa di caratura internazionale fornisce garanzie in termini di solvibilità che un normale inquilino non può dare. Il nostro studio tratta unicamente immobili ad uso commerciale i cui locatari abbiano una comprovata reputazione e solidità economica. Quale altre forme di investimento generano utili netti così elevati? Non me ne vengono proprio in mente. Nessuna banca offrirà mai un tasso tra il 5% e il 7% ad un così basso indice di rischio. Quarto consiglio. Fate molta attenzione all'identità degli inquilini e alla durata del contratto. Le opportunità più attrattive sono costituite dalle locazioni a lungo termine con opzione di prolungamento. L'ideale sono contratti di locazione che vanno da 5 a 7 anni con possibilità di estendere l'accordo per altri 5. Quinto consiglio. Le banche svizzere per i mobili di valore concedono ipoteche che possono coprire fino all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile. Inoltre, gli interessi sulle stesse in franchi svizzeri sono al di sotto dell'1%. Grazie ai buoni rapporti che abbiamo con le banche e le assicurazioni noi stiamo in grado di offrire ad esempio un finanziamento decennale ad un tasso dell'1%. Insieme alle nostre banche con le quali abbiamo rapporti di lunga data possiamo anche proporre tipologie di finanziamenti alternativi che le classiche agenzie immobiliari non prevedono. Il finanziamento a capitale misto, in parte proprio e in parte proveniente da terzi, per citarne uno, aumentando così gli effetti della leva finanziaria e di conseguenza la possibilità di guadagno. Se siete investitori stranieri interessati al guadagnare sul mercato immobiliare svizzero, se siete alla ricerca di affari esclusivi e proprietà che gli altri possono solo sognare, allora chiamate subito il numero 0041442124404. Vi risponderò io personalmente e insieme discuteremo come massimizzare le rendite dei prodotti di vostro interesse. Approfittate dell'esperienza e della rete di contatti che ho creato in oltre 30 anni di carriera per ottenere il finanziamento personalizzato e garantirvi investimenti ad alto profitto. Buona giornata!